Fai la prova del fuoco. L'olio di semi di arachide Oyo regge bene la cottura. Olio di semi di arachide Oyo, lo specialista in cottura. E Oyo te lo dimostra ogni giorno, perché cuocere è la sua vera specialità. Ecco il risultato. E guarda come sa friggere bene Oyo. A proposito, posso darti un consiglio. Non friggere a lungo e più volte con lo stesso olio. Se vuoi un fritto sempre buono e croccante, come questo. È il consiglio di uno specialista. Arachide Oyo, lo specialista in cottura.